La nostra regione continua ad essere interessata da una circolazione depressionaria che da oltre 15 giorni sta determinando piogge diffuse ed abbondanti con nevicati in montagna, dunque una situazione di stampo invernale che sta causando non pochi problemi a livello idrogeologico ed idraulico poiché la quantità di pioggia che abbiamo registrato nell'arco di pochi giorni è davvero notevole e la pioggia non mancherà anche nei prossimi giorni, anzi avremo apporti molto abbondanti soprattutto sul Cilento, questo perché da qui a sabato 11 dicembre sulla nostra regione transiteranno altre due intense perturbazioni inserite in un letto di correnti esteso dal nord atlantico al mediterraneo, la pausa dunque dei fenomeni che stiamo vivendo in queste ore avrà vita breve, infatti osservando l'ultima immagine del meteosat notiamo un'intensa ed estesa perturbazione che con la sua parte avanzata ha già raggiunto la Francia e nel corso della prossima notte farà il suo ingresso sulle regioni nord occidentali della nostra penisola dove determinerà nevicate che su alcuni settori si spingeranno fino in pianura, la nostra regione inizierà a subire gli effetti dal pomeriggio di domani, mercoledì 8 dicembre, quando le correnti si orienteranno da Libeccio annunciando l'arrivo del fronte perturbato, perturbazione che giungerà in nottata determinando un nuovo e sensibile peggioramento, quindi in nottata tra mercoledì sera e la prima parte di giovedì. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per i prossimi giorni. Mercoledì 8 dicembre, cielo irregolarmente nuvoloso con tendenza al rapido aumento della nuvolosità ad iniziare dal settore settentrionale della regione con associate precipitazioni. Nel corso del pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche alle rimanenti aree e tenderanno ad intensificarsi tra la serata e la nottata. Temperature in temporaneo lieve aumento, venti deboli da ovest nord ovest tendenti a disporsi da sud ovest rinforzando vistosamente dalla serata. Mare da mosso a molto mosso con moto ondoso in ulteriore aumento dalla serata. Giovedì 9 condizioni di cielo molto nuvoloso coperto con precipitazioni diffuse e persistenti di forte intensità nella prima parte della giornata quando saranno possibili rovesci anche i grandinigeni. Nevicate in montagna al di sopra dei mille metri, temperature in diminuzione sensibile dal pomeriggio, venti moderate occidentali con improvvise raffiche durante i fenomeni più intensi. Mare agitato. La situazione rimarrà instabile anche nella giornata di venerdì 10 con altre sporadiche precipitazioni. Anzi, dalla serata potrebbe complicarsi nuovamente la situazione a causa dell'arrivo di un nuovo fronte perturbato che andrebbe a determinare altre intense precipitazioni nel corso della notte e per buona parte della giornata di sabato con nevicate a quote di bassa montagna. Per un miglioramento occorre aspettare la giornata di domenica 12 grazie all'inserimento di correnti secche e relativamente fredde da nord-est. Per maggiori dettagli invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo facebook Meteo Cilento. Termino qui, a presto da Giuseppe Stabile.